Ritrovata a Tarquinia, in località La Galla, nell'area boschiva situata nella zona dell'Infernaccio, una tomba etrusca a camera di epoca ellenistica risalente al III secolo a.C. A seguito di una segnalazione inerente alla presenza di un accampamento abusivo, i carabinieri della stazione di Tarquini hanno rinvenuto sul posto una rulotta e divenuta l'alloggio fisso di due tunisini. A pochi passi dall'accampamento gli uomini dell'Arma hanno scoperto la tomba vuota già saccheggiata. La rulotta e con tanto di tenda da sole, insieme ad alcuni arnesi da lavoro ed altri oggetti abbandonati, erano vicino ad un'area di notevole interesse storico-archeologico, sottoposta a vincoli paesaggistici, archeologici e idrogeologici. Denunciate dai carabinieri dunque per illecito edilizio e per la violazione della legge sul patrimonio archeologico tre persone, i due tunisini e un 58enne tarquiniese proprietario del terreno. L'area infatti è stata picchettata con 65 paletti già cementati sul terreno boschivo ed alcune decine di metri cubi di terra sono stati rimossi per ripulire la tomba. I tunisini sono stati sorpresi dai carabinieri con strumenti in mano mentre muovevano il terreno nei pressi dell'oculo. Ora aspetta la guardia forestale esaminare eventuali responsabilità al loro carico in merito a reati ambientali. La tomba trovata è costituita da quattro stanze dove un tempo erano deposte le spoglie dei defunti, probabilmente portate via insieme ai loro averi, importanti reperti archeologici forse perduti per sempre. Si presume che i due tunisini avevano adibito la tomba a vera e propria dimora. In quest'area è nota la soprintendenza e la presenza di numerose tombe etrusche. Quella di questa mattina è stata scoperta e riportata alla luce dai cosiddetti tombaroli. Domani è atteso dai funzionari della soprintendenza un sopralluogo per verificare lo stato della tomba.